Adesso vado a vedere io Vedete qualcuno, io non riesco a vedere nessuno Guardate, si sono presi... No! Ragazzi, cosa puzzava? C'era qualcosa che non andava Mi faccio pensare seriamente che abbiano manomesso la Porsche Piano Ronaldo, piano! Madora, come faccio ad essere così ritardato, regà? Non aver archiviato come tutti gli altri Mabba f***a, archivi a tua madre! Vi, se vostra moglie vi lasciasse, vi rubassero la vostra auto preferita Vi sentireste come lui? Mi pretendo che mi incazzo Ci sarà da incazzarsi Vabbè Ciao a tutti ragazzi e ragazze Pagliacci e pagliacci Qua è il vostro Omega, come state? State bene, spero di sì Quindi benvenuti su questo nuovissimissimo video Che sarà bello Bello, bello, bello Mi è stato chiesto da alcuni di voi Perché ragazzi, sì, i vostri messaggi li guardo io Non è che leggo sui commenti su YouTube Guardo anche i vostri messaggi E siccome ho sempre detto che la serie la portate avanti voi con i vostri commenti Io ragazzi ho seguito esattamente il consiglio che mi ha dato uno di voi Ora non mi ricordo chi esattamente Però ho seguito quello che mi avete scritto Ragazzi, sapete che ci sono un po' di attriti tra Icardi e Ronaldo Però non so cosa c'entri Pogba Ma c'è qualcosa che mi puzza sotto Quindi ragazzi, godetevi questo video al massimo Perché mi avete chiesto voi Quindi riusciamo ad arrivare a questo video a 6.000 mi piace Ce la possiamo fare Piazziamoli subito a bomba Veloce, veloce Così ci riusciamo subito al pensiero E vediamo il video Come facciamo tutti i giorni Prima di passare al video Voglio salutare due di voi che mi iscrivono su Instagram Saluto Nasreddin A Mami che mi iscrive Ciao Omega Mi saluto nel tuo prossimo video Sei il migliore Bella così Ciao zio Ti saluto E grazie per il tuo commentone Yo E saluto anche Yamnorset che mi iscrive Bella fra Bella fra Bella bro Bella zì Bella Non so Bella tutta la famiglia Bella anche per te Ti saluto E bella Ragazzi se anche voi potete essere salutati Se potete essere salutati da me E dal nostro CR7 Mi raccomando Venitemi a seguire su Instagram Lo sapete Ci mettete due secondini Lo trovate qui E in descrizione Mi raccomando Passateci due minuti Così poi potete guardarvi il video Sapete che vi aspetto Così avete la possibilità di parlare con me in direct E anche di essere salutati Bene ragazzi Siamo di torno a casa Non so dove sia andato CR7 Io sapete che quando entro in gioco Cristiano Ronaldo Mi entra O direttamente in macchina Insomma Sapete come funzionano Quando voi entrate su GTA E vi escono direttamente già i personaggi Michael Franklin Non sapete cosa stavano facendo Ragazzi sono entrato in gioco E stava Cristiano Ronaldo In Porsche Vabbè Non so precisamente cosa stava facendo Però Va bene così Ok Chiudiamo la macchina E io come vi ho già detto ragazzi Questo sarà un video molto molto particolare Per cui vi do a mettere Un bel mi piace Soprattutto Ragazzi Soprattutto E anche commentare E dirmi se vi piacerà Quello che vedrete Ma Ma sento bene ragazzi No perché ha sedito dei rumori Venire dal cespuglio No ragazzi Perché dovete sapere C'è una brutta esperienza Perché In quella Dietro quell'albero Un tempo Parlo coronando adesso Per chi lo sa Dietro quell'albero Un tempo Perché Perché Ma ragazzi Io qui Qui non vedo nessuno Cioè vedo solo delle piante Non vedo nessun altro Voi vedete qualcuno Io non riesco a vedere nessuno Cioè guardate Vedo solo cespuglio Su cespuglio Vedete ragazzi Io vedo solamente cespugli Non c'è niente Qui Vabbè Forse avrò sentito male Per carità di dio Ragazzi ci passeranno pure Degli animali di qua Vabbè Andiamo dentro casa Perché Dobbiamo bere qualcosa Vi siete accorti Che siamo dei tratati Guardate Abbiamo la vita a rosso Tra un momento e l'altro Scattiamo che non possiamo più vivere Ed è questa la vita reale Che ci piace Ragazzi Sarà meglio bere qualcosa Prima che finiamo Distrutti a terra E poi non possiamo più rialzarci Ok ragazzi Mentre Ronaldo Sta finendo di bene Vedo che Le cose si sono rimesse a posto Quei sensi di fame e di sete Vi siete accorti Che il nostro eroe ragazzi Non è più lo stesso di prima Ha la faccia sempre triste Oddio La sua faccia è la stessa Sia quando è incazzato Che felice Eccitato Insomma Tutte le espressioni Ragazzi Le fa con la stessa faccia Quando ci siamo lasciati con Jasmine Ragazzi Le è andate a via di casa Sapete che il nostro matrimonio È praticamente finito Infatti guardate Ci sono due ragazze da dietro Che ragazzi Non so cosa stiamo facendo Infatti Abbiamo le idee talmente confuse in testa Che non sappiamo più Che cosa vogliamo Dalla vita Insomma Per cui ragazzi Scrivetemi anche nei commenti Se Cristiano Ronaldo Deve rifidanzarsi E con chi Perché Arriverà anche un sondaggio Sul canale Penso O adesso O tra 2-3 ore Quindi andatelo a vedere Perché è molto importante Anche il sondaggio Perché da lì Capiremo Quale sarà la nuova ragazze Di Cora e 7 E se ci deve essere Quindi Ragazzi È un periodo un po' duro Per il nostro campione Diciamocelo Per cui ragazzi Possiamo dire sicuramente Che Jasmine È una brutta cosa Da dire Ma ormai È un capitolo chiuso Della nostra vita Infatti Ragazzi È stato bello Comunque stare con le ce Vi ricordate tutte le cose Che abbiamo fatto insieme Però ragazzi È stata lei Cioè non è stata mica colpa mia Io quant'altro L'avrò tradita per errore Perché può succedere Ragazzi Per carità Siamo Siamo esseri umani Dico Sarà successa una o due volte Lei non so invece quante Vedete ragazzi L'unica mia felicità Adesso è Ronaldo Junior Che è meno mio figlio So che non mi abbandonerà mai È Rex Che è più fedele Di tutti quanti messi insieme Non riesco a stare tranquillo Perché Io ricordo Di aver sentito Dei rumori Porca di una miseria E ho paura Che stia succedendo qualcosa Tra l'altro Le guardie ragazzi Sono un po' addormentate Cioè nel senso Non ci vuole Ecco perché vedete Qua le stanno parlando Non ci vuole niente A uscire Prendere un Lamborghini Spaccarle e scappare via Ecco perché mi sto preoccupando Quindi forse è meglio andare a vedere Fammi vedere va No 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 Proprio questo di cui stavo parlando Guardate Si sono presi No Si sono presi Si sono presi Da Lamborghini Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Corri macchina Corri Vedete ragazzi Devo dare ascolto a me stesso Io lo sapevo Che c'era qualcuno lì Ok ragazzi Stanno andati da destra Da sinistra Allora io lo sapevo C'era qualcuno Che ho sentito i rumori È successo Totalmente in fretta Mi era venuto il dubbio Ragazzi Qualcosa puzzava C'era qualcosa Che non andava Mi era venuto il dubbio Ed infatti è stato così Eccola ragazzi Eccola 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 Ora raggiungo Ora raggiungo No 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 Ho sbagliato Ho sbagliato Porcaccia Allora Quella Lamborghini Non me la posso far rubare Che cavolo stiamo facendo Il giro Ronaldo che stai facendo Ragazzi siamo tornati indietro A casa nostra Perché Assolutissimamente La Lamborghini Supreme Perché Ronaldo ma come diavolo Stai guidando Vuoi guidare bene Ci stanno rubando la macchina Dove vai E dall'altro Ok Ragazzi Inizio a pensare seriamente Che abbiano manomesso la Porsche Guardate Non riesco a guidarla Guardate come funziona Cioè come Guardate È impossibile Come provo a frenare O a sterzare Guardate Sembra che abbiano manomesso i freni Cioè impossibile curvare Che infami ragazzi Sapevano che devono Rincorsi con la Porsche Vai Ronaldo Vai Ecco vedete ragazzi Guardate Vedete come provo a frenare Guardate La sensibilità È Non lo so Dove è andata Forse sarà andata di qua Sarà andata di qua Sarà andata di qua Sicuramente Non è Ora sono ritornata indietro Piano Ronaldo Piano Maduro Sei raschiata davanti Il problema ragazzi È questo In questa serie Le cose succedono Tammete velocemente Che Ok di qua di qua di qua Di qua Sarà di qua sicuramente Sarà di qua sicuramente Ragazzi Non la trovo più Forse Aspettate Vediamo se la troviamo qui Per modi No ragazzi Non vedo più la Lamborghini Supreme Lo sapevo Avevo sentito dei rumori Mi Li avevo sentiti Però dietro i cespulli Ragazzi Abbiamo pure visto Non c'era No Ma come faccio ad essere così ritardato Ragazzi Si vedevano pure È successo velocemente Io avevo sentito dei rumori Di cespulli non c'era nessuno Ma dopo mi sono accorto Ora mi sono ricordato che Dall'alto si vedeva qualcuno Ragazzi L'avevo visti io Ronaldo scusa Non me ne sono accorto Ragazzi vi giuro Troppe cose per la testa Il divorzio con Jasmine Le auto rubate Ma perché Sono venuto in una città Dove c'è troppa criminalità E dove le ragazze Sono tutte Delle grandi putt Vabbè Lasciando stare questo È inutile che Stiamo qui a piangere A liagnarci Non possiamo fare altro Che andare Alla polizia E andare a fare una denuncia Per quello che ci è successo Vi giuro Tra il matrimonio Ho falito con Jasmine Il fatto di dover andare Adesso Qui dentro Dai poliziotti A fare questa denuncia Mi fa veramente incazzare E dai Porca miseria Salve Buongiorno Devo parlare con lei Ho un problema Mi hanno rubato Una Lamborghini E sai signora Il problema è che Non è una Lamborghini normale È la Lamborghini Supreme Che è unica e rara Al moto Ma giustamente ragazzi Una poliziotta Che non conosce Manco una Mustang Che deve sapere Di Lamborghini Di auto italiane Ah invece dice Che la conosce Ah si si Ragazzi Ronaldo sta chiedendo Alla poliziotta Quanto tempo ci vuole Giustamente Per cercare la Lamborghini E magari avere Dei risultati Dei riscontri E il poliziotto Qui a noi Sta anche dicendo Che come non è possibile Veramente Dicono che vengono Sequestrate milioni Di Cioè vengono rubate Migliaia di auto Al giorno Allo Santos Perché è la città Dei crimini E quindi dicono Che il nostro caso Ve l'ha archiviato No 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 Forse non ha capito niente Signore forse Lei non ha capito niente La mia Lamborghini È una Lamborghini Molto particolare Perché forse I signori non lo sanno Come per archiviato Come tutti gli altri Ma va a f*** Archivi a tua madre Oh merda Oh merda No no Scappa 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 Prima che esca Non ha visto una pistola Scappare Oddio Oddio No 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 Posso spiegare Posso spiegare Va bene va bene Scusate 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 Entro dentro Entro dentro Scusate Scusate No 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 Non mi sperate È una pessima giornata Non abbiamo potuto manco dire addio Alla Lamborghini Supreme Che Beh ho detto È successo velocemente Avevo un dubbio Erano fondati Porca di una miseria Sono uscito dalla porta E poi La Lamborghini Sparita Si La Lamborghini è sparita Ragazzi I pozzotti qui Mi stanno dicendo Uno di non preoccuparsi E uno che non può fare Non possono fare niente Loro Possono fare il possibile Per cercarla Ma comunque Il nostro caso Viene ragazzi Dopo le altre Quindi devono fare In ordine cronologico Ovviamente I casi che hanno avuto Si ma guardate che Madonna Perché non capiscono La sbettere di puntarmi una pistola Ma non vede che Già mi hanno sparato Guardate mi ha sporcato Una ferpa da mille euro Porca miseria Vabbè si Devo restare calmo Voi fate il possibile Scusate se ho avuto Quest'altro Quest'attimo di ira Ma ragazzi Mettetevi voi Al posto di Ronaldo Se vostra moglie Vi lasciasse Vi rubassero La vostra auto preferita Vi sentireste come lui Ragazzi Questa è una giornata Seriamente Da dimenticare Veramente Voglio tornare a casa A mettermi sul letto E non pensare a niente Guardate la Porsche Vedete ragazzi C'è qualcosa che non va Devo portarla anche A un Los Santos Custom Da Simon Guardate Non riesco proprio a guidarla Cioè Sembra che abbia perso Sensibilità Guardate Siamo per fare un incidente Niente ragazzi Siamo tornati a casa La Porsche Completamente Devastata Ma le guardie Che cazzo le pago a fare Che vi pago a fare Ma io Voi dico Qui fuori Sta fia il sole Porca miseria E mi fate incazzare Sto sei meritato Sto pugno Sto sei meritato proprio E non reagire CR7 Capito Caputo la sicurezza Dell FBI Si sta già scusando E sta dicendo Che una cosa già Non succederà mai Forse non avete capito niente Quella macchina Era unica e rara al mondo Non ce l'aveva nessuno Bene Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un bel polliciozzo in su Commentate Ditemi come vorreste Che andasse avanti Se Ronaldo Junior Deve fare qualcosa Lui Ci siamo già intesi Regà Con uno sguardo Noi ci intendiamo Anche se non vi vedo Però Se deve fare qualcosa A Ronaldo Junior Se deve recuperare qualcosa A Ronaldo Junior Se deve fare danni A Ronaldo Junior Insomma Ditemelo voi Iscrivetevi al canale Per non perdere Gli altri video ovviamente Con il mitico CR7 Un po' Incazzato per il brutto periodo Che stiamo passando E con Ronaldo Junior Che ragazzi Prevedo che a breve Farà qualcosa Che vi piacerà molto In descrizione vi ricordo Trovate le mie maglie ufficiali In super edizione limitata Quindi ragazzi Mi raccomando Andate a vedere Compratele Che se le comprate Vengo a mettere Mi piace su Instagram Se le postate E sempre su Instagram Se avete essere salutati In tutti i prossimi video Vedete ragazzi Fate come CR7 Fate come CR7 Andate qui Su Instagram Porca di mia miseria E venitemi a seguire Perché ragazzi Chi mi segue Verrà salutato In tutti i prossimi video Per questo video Direi che è tutto Sto pensando seriamente Di licenziare tutte le guardie Qua me gozzo raga Ronaldo Incazzato E sepecamo al video Di domani Esco